Lo stadio, Stadio Nicola De Simone, è un argomento su cui i tifosi, i siracusani, la società sportiva, le società sportive hanno spesso focalizzato la propria attenzione. Lavori in corso, futuro? In futuro, a breve consegneremo la pensilina. Ci siamo ritrovati questa cosa, io non so perché questa pensilina fu decisa di abbattere, fu decisa di essere abbattuta, comunque questo mi sono ritrovato, io mi sono impegnato e sono tutti i giorni costantemente in contatto sia con la direzione lavori che con il RUP, che nella fattispecie è l'ingegnere capo dell'ente, l'ingegnere Borgione e tutti i giorni io l'ho compulso per che prima possibile venga consegnata questa pensilina. Sono certo di poter consegnare quest'opera se non ci saranno incidenti, noi facciamo tutti gli scongiuri del caso o degli altri impedimenti di natura burocratica e amministrativa per la prima settimana di aprile. Il tema nuovo stadio, non solo stadio nella zona dei Pantanelli, è abbandonato? Non è abbandonato, sarà oggetto di attenzione da parte dei nuovi redattori della nuova variante generale della PRG. Noi contiamo come investimento per lo stadio Nicola De Simone per appuntare al rifascimento del manto erboso con un campo in erba sintetica.